Benvenuti a voi al nostro programma del mercoledì sera amministrando dopo le elezioni. Questa sera conosceremo il sindaco di Pergola. 36 anni, Diego Sabatucci. Buonasera. Buonasera. Sindaco giovane, un sindaco che però in realtà ha un percorso politico conoscitivo della sua terra lungo perché per dieci anni, già dal 2009 al 2019, aveva fatto parte della precedente giunta. Poi c'è stato un intervallo di cinque anni nell'amministrazione che è stata condotta dall'ex sindaco Guidarelli. Quest'anno a giugno una sorta di plebiscito per la lista Pergola nel cuore ed ecco Diego Sabatucci che abbiamo in studio. Come si sente questi primi quattro mesi e mezzo di mandato sindaco? Quattro mesi e mezzo intensi ma molto belli. Molto importante. Veniamo da una campagna elettorale molto intensa quella che abbiamo fatto. Abbiamo visitato tutte le frazioni con una grande vicinanza a tutti i cittadini e poi è iniziato questo bel percorso che in questa fase vede un importante lavoro di progettazione, un importante lavoro di organizzazione, riorganizzazione anche della macchina comunale. Quindi una prima fase di questo tipo ma che già ci ha visto molto attivi anche con molti eventi. Una lista appunto l'abbiamo denominata Pergola nel cuore composta da tante persone che sono pronte a dare una mano al sindaco per portare Pergola nel posto in cui merita. Sappiamo che Pergola è una città bellissima, una cittadina bellissima alle falde del Monte Catria e caratteristica con un centro storico straordinario quindi crediamo che davvero le cose da fare siano tante. Sì, la lista si chiama Pergola nel cuore e ripartiamo da noi perché come dicevamo nasce da un'amministrazione che ha appunto amministrato Pergola dal 2009 al 2019. Io facevo parte di quella squadra, la squadra di Pergola nel cuore appunto dove sono stato prima consigliere comunale poi assessore al bilancio e oggi da giugno abbiamo deciso di far ripartire Pergola, questo è lo slogan per dargli quello slancio con quel lavoro che avevamo iniziato in quegli anni. il sindaco in realtà appunto ha questa esperienza però è alle prime anche occasioni di intervista eccetera quindi siamo davvero contenti di averlo con noi, peraltro gli abbiamo fatto una lunga corte per averlo qui questa sera in studio però c'è da dire che in effetti il periodo era difficile perché c'è stata la fiera del tartufo di Pergola, tantissima gente, tantissime persone, è la prima fiera importante in realtà che viene in provincia e poi ci sono le altre due. Com'è andata? La fiera è andata molto molto bene nelle prime tre domeniche di ottobre, abbiamo avuto tantissimi visitatori, tantissimi stand, tanti spettacoli, l'avremmo detto in campagna elettorale, volevamo far tornare a Pergola i grandi eventi, i grandi eventi sono tornati ed è per questo ad esempio tornando al discorso di prima della squadra nei vari assessorati al vice sindaco nonché onorevole Antonio Baldelli, ho dato la delega ai grandi eventi, l'abbiamo proprio definito così questo tipo di assessorato perché era proprio uno dei principi cardine della nostra amministrazione perché per dare quella spinta all'economia della città, la fiera del tartufo ma soprattutto i grandi eventi sono un importante volano per l'economia della nostra città che deve essere, deve guardare al turismo quindi deve incentrarsi su questo tipo di economia. Che effetto fa avere come vice sindaco un onorevole? È una storia che parte da lontano come dicevamo prima di tutto nella nostra squadra siamo degli amici perché da tanto tempo che siamo insieme con alcuni è oltre 16 anni che siamo insieme quindi c'è prima di tutto rispetto alla stima e dell'amicizia, cosa che non sempre è facile trovare in politica o in una squadra, invece da noi la base, il principio è questo e poi è molto molto importante perché c'è un'esperienza di fondo e c'è anche un importante rapporto istituzionale quindi è molto molto importante per noi la figura di Antonio. Certo poi è sempre di grande stimolo poter contare su persone che hanno esperienza, su persone di spessore. Pensate quindi ha detto 16 anni ha cominciato a fare politica a 20 anni, si può dire da ragazzino quando si pensa ad altro la passione per la politica presa però è proprio una questione di passione vero sindaco? Sì la passione, mi sono messo in gioco al tempo con Francesco Baldelli che era il sindaco di Pergola proprio a 20 anni proprio perché uno aveva quella passione, quella voglia di vedere la propria città crescere quindi da lì la voglia di mettersi in gioco e la voglia di far appunto migliorare la propria città oggi uno è cresciuto nel frattempo, ho dei figli e oggi lo faccio anche per mio figlio perché voglio vedere, voglio che rimanga Pergola e che tanti giovani rimangano Pergola e vivino a Pergola. Certo, tant'è vero che il programma comunque che è stato pensato per questo quinquennio prevede uno sviluppo molto importante per Pergola. Sono tre grandi temi, lo dicevamo prima, il decoro urbano, le opere pubbliche che è lo sviluppo turistico. Cominciamo a capirne un po' di più come poter fare, come poter sviluppare questi settori. Tre temi fondamentali, macro temi che poi si delineano nelle varie forme decoro urbano perché la città, sono tre temi legati uno con l'altro, decoro urbano se uno pensa allo sviluppo turistico della città, decoro urbano deve essere una delle cose principali perché chiaramente deve essere attrattivo a livello turistico, deve essere il decoro urbano dai primi giorni penso abbiamo riordinato il centro storico di Pergola con anche cose che sembrano banali ma che in realtà danno quell'idea di ordine e di decoro della città facendo semplicemente le strisce per i parcheggi, quindi dando quel senso di attenzione e quel senso di una città ordinata. Il decoro poi si declina in tanti aspetti che è la pulizia, poi ha anche tantissimi aspetti, però come dicevamo è la base principale per gli altri due temi che sono lo sviluppo turistico della città e soprattutto le grandi opere, quindi questi tre temi sono legati uno con l'altro e soprattutto uno fa da spalla all'altro, nel senso che lo sviluppo turistico se non abbiamo infrastrutture, non abbiamo grandi opere, chiaramente opere importanti per la città, chiaramente anche a livello turistico l'attrattiva è minore e viceversa, questi sono i tre temi che sono il cardine del nostro programma elettorale. Quando mi capita di ragionare pensando al ruolo di un sindaco, io immagino il sindaco come un padrone di casa, un padrone di casa che ovviamente a casa sua gli piace avere le cose che siano al posto giusto, ecco perché magari tante volte quando capita di vedere le condizioni delle strade, per esempio dico fossi un sindaco sarebbe la prima cosa che farei perché sono quelle che poi vengono percorse da tutte le persone. Peraltro Pergola è inserita in un contesto importante per quello che riguarda appunto le opere pubbliche e c'è un grande progetto che coinvolge Pergola per quello che riguarda anche questa pedemontana che dovrebbe essere una sorta di alternativa alla viaria proprio adriatica, giusto? Sì esatto, per noi l'intervalliva precisamente, questo progetto che collega la valle del Cesano con la valle del Metauro è un progetto fondamentale per noi, infatti nel programma elettorale fare tante cose e anche nella composizione della squadra ho un componente che si occupa di sviluppo economico, ognuno ha dato un tema ben preciso, ogni consigliere, ogni assessore, proprio perché ad esempio il tema dell'intervalliva, quindi di questa nuova strada che unirà valle del Cesano e valle del Metauro per noi è fondamentale per lo sviluppo economico di Pergola e di tutto il territorio perché poi comprende un po' l'intero territorio interno soprattutto e questo è importante, è importante per la valle del Cesano e per la valle del Metauro ed è importante soprattutto per ripopolare quelle aree interne che ahimè negli anni un pochino hanno perso a discapito magari delle grandi città o della costa. Certo, purtroppo è una questione endemica. Peraltro Pergola ha un ospedale, ha un ospedale importante, ha un ospedale importante e molto efficiente, molto magari non grandissimo ma per testimonianza diretta possiamo dire davvero molto efficiente e credo che questo sia un fiore alla chiela per la città nel modello di sviluppo anche di una nuova sanità. Sì esatto, è un ospedale molto efficiente a cui teniamo molto perché anche lì è un punto di riferimento per tutto il territorio. A volte la lontananza con la costa, con gli ospedali della costa dove magari tutti i cittadini riescono ad accedere in maniera abbastanza facile per noi è molto lontano in genere quindi avere un riferimento come il nostro per l'entroterra è veramente importante per dare una risposta anche diretta ai cittadini e alle esigenze e ai bisogni dei cittadini. Sì ci sono poi proprio delle specializzazioni importanti, si va a Pergola per fare determinate cose e si fanno molto bene perché davvero è una struttura d'eccellenza, è effettivamente così. C'è ancora qualche problema per il post alluvione? Il centro storico ha risentito molto di quello che è successo due anni fa, a che punto siamo? Per il post alluvione abbiamo subito in particolare in un quartiere, il quartiere delle tinte che è il quartiere storico della nostra città, è un quartiere molto bello, il quartiere dei tintori definito e lì quel quartiere ha subito tanti danni. Ad oggi con la nostra amministrazione ci siamo messi subito al lavoro da giugno proprio perché c'era una fase di stallo diciamo non è stato fatto, praticamente non sono state portate avanti nessun tipo di opera in quel quartiere nei due anni da parte dell'amministrazione precedente, comunque c'è stata una sorta di rassismo, noi ci siamo andati subito subito da fare e nei prossimi giorni avremo la riapertura del ponte anche se è una riapertura diciamo solo alla viabilità dell'attuale ponte che c'è nell'attesa che si sviluppi completamente il progetto invece di rifacimento totale del ponte e questo è un risultato straordinario, è il primo vero atto che fa il Comune di Pergola su quel quartiere, ci siamo riusciti anche in breve tempo perché in pochi mesi dall'elezione ma ci tenevamo molto perché oltre che essere il quartiere in sé per sé di aver subito i danni dell'alluvione è anche un punto di riferimento a una porta d'ingresso al centro della città e quindi dobbiamo ripartire da lì e far ripartire l'intero quartiere e di conseguenza l'intera città. Certo, è proprio, si può dire l'ingresso, l'ingresso a Pergola, l'ingresso al centro storico è bellissimo peraltro questo quartiere, questo rione e peraltro adesso aspettate tante persone anche per il periodo di Natale, andiamo incontro a una manifestazione importante che è la ciocco visciolata, giusto? Sì, praticamente dopo la fiera nazionale del tartufo stiamo organizzando, siamo anzi vicini alla ciocco visciola di Natale che si svolge il 6, il 7, l'8 dicembre a Pergola, un binomio importante tra cioccolato e visciolata che è uno dei nostri prodotti tipici, una manifestazione molto importante come dicevamo prima, uno degli altri grandi eventi su cui vogliamo puntare per l'economia della nostra città. Ci sarà anche un mercatino, ci sarà una grande accoglienza per il Natale, giusto? Sì, ci saranno molti stand gastronomici all'interno, l'albero con il presepe, spettacoli, cene, quindi la stiamo organizzando al meglio e anche questo sarà uno dei grandi eventi che dicevamo e abbiamo già programmato anche l'estate 2025 per Pergola perché l'idea di questa amministrazione è grandi eventi ok ma programmazione per poter realizzare quei grandi eventi e quindi dopo la fiera del tartufo, la ciocco visciola che sarà adesso a dicembre, nel prossimo anno riavremo anche la rievocazione storica che è un evento che facevamo al tempo con l'amministrazione di Pergola nel Cuore in agosto e su cui crediamo molto. Queste sono la strada per far crescere l'economia dei nostri territori, soprattutto i grandi eventi con un turismo che si sta riducendo sempre di più nei giorni, nel numero di giorni che il turista visita la città, i grandi eventi sono sempre più apprezzati. Certo, considerate che abbiamo assistito qualche giorno fa all'incontro sugli stati generali del turismo che hanno portato dei dati molto importanti per quello che riguarda Pesaro ma anche la provincia. Pergola sicuramente ha usufruito di questo grande volano di Pesaro capitale della cultura e lo vuole fare nel tempo che è il progetto in realtà iniziale, quello cioè di poterlo distribuire anche una volta passato il 2024. E in tutto questo pensate, a Pergola ci sono quei meravigliosi bronzi che ci guardano, che sono lì in questo museo che è davvero da visitare perché è straordinario ed è un punto d'attrattività incredibile. Sì, durante la fiera del tartufo li abbiamo definiti gli oli di Pergola. Erano due in quel caso, il tartufo bianco pregiato e i bronzi dorati. Al tempo abbiamo fatto anche proprio un pacchetto durante la fiera dove si poteva degustare il tartufo bianco pregiato e si poteva visitare il museo dei bronzi. Proprio per dire che questi sono i nostri oli, questa è la nostra, sia che i nostri oli che vengono sia dalla terra e sia dalla storia, ecco, quindi sia assolutamente da visitare. Certo, assolutamente. Chiaramente, Sindaco, questi punti sono importanti, sono delle pietre ferme, delle pietre miliari per lo sviluppo del territorio, ma per fare tutto questo poi in realtà servono anche le risorse. Sì, esatto. E lì su questo abbiamo fatto una scelta come giunta, che è quella di partecipare ai bandi per ottenere dei fondi, quindi progettazione, come dicevamo all'inizio, partecipare al bando e cercare di ottimizzare le risorse, a volte limitate, che i comuni hanno, cercando di ottenere dei fondi maggiori da parte degli enti sovraordinati. Per questo, in questi quattro mesi, uno del lavoro molto importante che è stato fatto è quello di progettazione e di partecipare ai bandi. Al momento ne abbiamo vinti e di questo ne siamo molto, molto contenti. Due dedicati allo sviluppo turistico, che dicevamo prima, quindi legati alla Fiera del Tartufo e alla Ciocco Visciora di Natale e altri legati, ad esempio, al recupero delle mura storiche della città. Quindi il quartiere delle Tinte, quartiere alluvionato di cui parlavamo, che collega, con un camminamento, collega il centro storico della città. Questo bando è importante sia per il recupero, quindi per la sicurezza delle mura storiche, ma sia anche a livello di dare un impulso turistico alla città. Abbiamo partecipato anche ad altri bandi e siamo in attesa degli esiti, poi lì bisogna capire se il bando è uno riesce a vincere oppure no, però l'idea deve essere questa di Cardine, quindi utilizzare le risorse a volte limitate che i comuni hanno per partecipare ai bandi. Abbiamo delle grandi opportunità legate, ad esempio date dalla regione Marche, per partecipare a dei bandi. Utilizzare quelle risorse per dare un futuro alla città, progettando con attenzione tutte quelle che sono le necessità della città. Perfetto, quindi davvero un grande aiuto per il territorio. Ci abbiamo alla conclusione, Sindaco. Io so che lei giocava a calcio, giusto? Ex calciatore in che ruolo? Ho provato a informarmi ma non ho avuto notizie precise. Allora, diciamo difensore. Diciamo difensore, quindi difensore si muoveva. Sì, su più ruoli, ecco. Un difensore dinamico. So anche per chi tiene, lo vogliamo dire oppure no? Sì, sì, non ha problemi. Non ha problemi, perché milanista. Milanista, sì. Milanista, quindi le chiedo con una curiosità. Come avrebbe gestito lei la situazione da Sindaco di Bologna-Milan? Sappiamo che Bologna-Milan è stata rinviata per un problema. C'è stata un'alluvione importante a Bologna, la partita è stata rinviata. Come l'avrebbe gestita? Il Sindaco di Bologna ha preso una decisione e il calcio si è dovuto adeguare. Credo che, considerata la situazione, secondo me era da fare quello che è stato fatto. Poi rinvii, non rinvii o campo neutro. Lei come l'avrebbe gestita? Sicuramente da Sindaco non si può ragionare da tifosi, innanzitutto. Quindi bisogna essere lucidi e capire bene quella che è la situazione. Viviamo purtroppo in un tempo dove le allerta a metro poi possono scaturire in situazioni molto, molto complicate per la sicurezza dei cittadini. Quindi sicuramente oggi serve un'attenzione in più su quelle che sono le scelte. Una partita come quella di Bologna-Milan, quindi dove molto pubblico sarebbe stato presente, quindi sarebbe stato convogliato allo stadio, sicuramente poteva creare un pericolo, un problema di ordine pubblico. Quindi capisco il Sindaco nelle scelte. Nelle scelte. Chiaramente il Milan è stato poco contento, però la partita si recupererà a febbraio e magari andremo a vederlo. Esatto. Sindaco, grazie. Grazie a lei. Grazie per il tempo che ci ha concesso. Continuate a restare su Rossini TV. Ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.